buonasera e benvenuti nella mia cucina la cucina di a tavola consiglia questo che vedete è un raro rarissimo capolavoro fatto sullo studio della tortina per san valentino che volevo fare la mia nipote ha preso il foglio e la scarabocchiato totalmente vabbè fa niente passiamo allora questa sera che farò la ricerca di una tortina per san valentino in che modo ho fatto un brownie scusa l'ho spostato ok un cuore fatto con lo zucchero e un pochino di colorante è facilissimo prendere lo zucchero lo fate sciogliere aggiungere due gocce di colorante mescolate fino a che non diventa così bello colorato eccetera e poi prendere una formina di quelle da biscotti la ungete leggermente e ciccola dello zucchero dentro ed eccolo quando lo lasciate raffreddare e questo è quanto come lo farò andrò a fare dei dischi con il coppapasta eccolo qui d'acciaio e lo farcirò con una crema allo zabaione fatta con crema zabaione e panna montata e lo andrò a guarnire con una crema una mousse diciamo spesa una sorta di mousse fatta con mascarpone e panna lo andrò a guarnire con il nostro cuoricino di zucchero e guardate bene sta raffreddando poi vi faccio vedere un pralinato che poi non è un pralina da un croccante alle noci un nocciante un croccante alle noci fatto con lo zucchero rosso che gli darà quel colore fantastico ne metterò un po in mezzo e un pochino sopra quindi andiamo ad iniziare come dicendo che comunque nell'info box vi metto la ricetta del brand bravissimo ma anche della ma anche della crema zabaione esatto allora io adesso vado a recuperare perché sta in frigo il mio croccante e ci rivediamo qui a breve allora eccolo qua il nostro croccante a questo punto lo facciamo a pezzetti lo mettiamo nel mixer e gli diamo una frullata ma lo lasciamo un po a pezzettini ok vedere che è carino molto bello si è buono perché posso sentire lo sgranocchiare prima ho mangiato un pezzettino di questo zucchero qua lo vuoi assaggiare allora allora i dischi li ho fatti eccoli pronti li ho fatti un pochino più cotti del normale perché mi serve la croccantezza perché le creme sono molto molto morbide molto molto soffici e quindi voglio fare questo dolce più croccante ok allora vado a frullare il nostro croccante appunto intanto prima lo divido a pezzettini per fare questo vi servirà solo dello zucchero e delle noci diciamo circa 70 grammi di zucchero e una manciata di noci più o meno è una cosa molto semplice fatto una volta a pezzetti in questo modo lo vado a frullare ci vediamo tra poco eccoci qua allora abbiamo messo la nostra crema crema lo zabaione con la panna nel sac a poche a questo punto tolgo ecco la prima per evitare l'aria e faccio dei bei ciuffetti qui sul nostro primo disco di brownie biscottato questo una volta attimo che sta uscendo la crema questo una volta preparato va in frigo deve riposare almeno almeno un'oretta ok poi metto il nostro guardate quanto è carino il nostro croccante sbriciolato perché l'amore croccante no il brownie al peperoncino è piccante il tutto insieme ci sta bene poi questo possono preparare anche dei biscotti più piccoli rischi piccoli certo da sentire semplicemente con qualcosa sopra con questa in teoria è una tortina per due no invece potete fare dei dischi più piccoli e fare delle monoporzioni però son valentino si divide tutto allora e adesso mettiamo l'altra crema quella panna e mascarpone è facilissima questa tortina e ragazzi ho fatto proprio per per chi in cucina non è diciamo praticissimo ma vuole stupire il fidanzato la fidanzata il marito la moglie la compagna con la gente quello che volete voi e a questo punto mettiamo a per l'assaggio dobbiamo aspettare san valentino per l'assaggio dobbiamo aspettare un ora vedi che non mi ascolti non mi ascolti guardate quanto è carino e ora mettiamo il nostro cuoricino fatta in frigo per un'ora e ci rivediamo qua per l'assaggio è veramente carina poi questo cuore così è che quasi trasparente e sì l'effetto era quello sì sì veramente veramente bello speriamo che sia anche buono cosa sarà anche buono sicuramente croccante perché io volevo proprio quello la croccantezza ci vediamo dopo eccola qua passata un'oretta e adesso andiamo a tagliare il nostro ebbè è croccante e quindi eccolo qui esce fuori tutto quanto però non aspettavo si è bellissimo in questo cuoricino e ti tocca assaggiarla no da un disco perché vuoi solo un disco sicuro è per forza perché perché non ce la faccio fanno un pezzo più piccolo andiamo al pezzo più piccolo va bene e allora tagliamo un pezzo più piccolo ecco qua opera perfetto è croccante quello era importante ti sei perso la cremina senti 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 e poi il brano è piccante è certo e quello zappaglione ci sta benissimo l'abbiamo distrutta però è molto buona complimenti al tavolo consiglio grazie mille ragazzi provate a farlo perché per carità non dico che sia semplicissimo però non è difficile e sorprenderete il vostro compagno o compagna e noi ci vediamo alla prossima ricetta ciao a tutti ciao a tutti